Serata d'eccezione a sfondo musicale, quella prevista per venerdì 3 luglio in Villa Mainoni di Intignano, in località Castelnuovo d'Erba. Con noi gli organizzatori della serata, in particolare il vicepresidente dell'Associazione Buonsenso Erbese Mario Muscari, con lui il responsabile della Quintetto Spirabilia Mauro Mosca e poi avremo anche la padrona di casa, Maria Mainoni di Intignano, con la quale affronteremo anche il discorso relativo a questa bellissima sede storica che forse non tutti gli erbesi conoscono. Iniziamo Muscari, vogliamo precisare il contesto nel quale è nata questa serata? Perfetto, il contesto è la Villa Mainoni di Intignano e è nata questa volontà da parte della proprietà di organizzare e aprire per la prima volta al pubblico questa villa storica e diciamo noi come Associazione Buonsenso ci siamo nati a dicembre del 2014 e abbiamo subito voluto organizzare questi eventi culturali a favore della comunità. Noi vogliamo proporre appunto questo concerto lirico grazie poi alla conoscenza con il Mauro Mosca che è il leader del Quintetto Spirabilia e un po' proseguire sulla nostra volontà appunto di fare degli eventi culturali a favore della comunità. Per quale motivo avete scelto questa location? Beh è una villa, io seguo un po' conosco la proprietà da un po' di anni e quindi ci conosciamo, ci stimiamo e quindi era proprio per questo. Poi io sono rimasto estasiato e innamorato della villa e quindi immaginavo già la prima volta che sono stato là, immaginavo appunto questo scenario. Ecco torneremo magari ad occuparci prima della conclusione della vostra associazione, cominciamo ad introdurre la serata vera e propria venerdì 3 luglio alle ore 21, il Quintetto Spirabilia. Sentiamo dalle parole di Mauro Mosca quello che sarà il programma della serata. Sì, dunque io sono un performer, un esecutore e anche il presidente del Quintetto Spirabilia, un'associazione che c'è dal 2008 e da sempre organizza festival di musica da camera. In questo caso nella fattispecie di quello che stiamo parlando ho curato un po' tutta la produzione musicale, un po' logistica, le prenotazioni, un po' l'idea generale. Il concerto che ci sarà dalle 21 alle 22 in villa, in esterna, nel giardino all'inglese della proprietà, sarà un concerto di 5 strumenti a fiato, quindi un Quintetto Fiato e classica, classico, di formazione classica, quindi clignetto, flauto, oboe, corno e fagotto e avrà un solista d'eccezione. Abbiamo scelto di mettere l'accento sulla voce, sulla voce lirica, quindi un soprano. Parliamo del maestro Mika Satake, che è una virtuosa che da sempre agisce nel territorio, è venuta in Italia per studiare ed è rimasta qui a lavorare da anni che è qui. Il repertorio sarà l'arie d'opera, quindi un repertorio lirico, del grande patrimonio italiano dell'Ottocento, quindi grandi autori che hanno reso l'opera italiana così importanti all'estero. Io lo dico sempre, se uno entra nei conservatori in Italia e va nelle classi di canto, si stupisce del fatto che ci sono più studenti stranieri che studenti italiani, perché dal punto di vista della didattica e della storia dell'opera lirica, l'Italia è un capofila, è un capofila e ha grande richiamo da questo punto di vista. Ecco, come nasce il Quintetto? Il Quintetto nasce per mia volontà, riunendo in realtà diversi compagni di studio. Io ho studiato al Conservatorio di Como, insieme ad altri del Quintetto Spirabilia, che negli anni si sono cementati come titolari del Quintetto, insomma, e nasce dalla volontà di crearsi anche un progetto imprenditoriale, perché in un contesto dove i fondi statali per le orchestre sono sempre meno, le orchestre hanno chiuso, stanno chiudendo le fondazioni liriche, sono in grande difficoltà, potete capire che un diplomato del Conservatorio deve prendere in mano un po' di, deve essere un po' intraprendente per cercare delle nuove prospettive. La musica da camera è sempre stata una cosa meravigliosa per me, curata da sempre, sia a livello di studio che fuori, ed esiste tantissimo repertorio per Quintetto di Fiati, tantissima letteratura per Quintetto, e negli anni abbiamo anche spaziato verso contaminazioni musicali e dei progetti quasi un po' più teatrali, non solo musicali, quindi coinvolgendo delle voci attoriali, ecco, di prosa e poesia. Quindi abbiamo sperimentato diverse cose per cercare di una proposta trasversale nel mondo dell'arte. Quindi una proposta che spazia nel campo della musica più ricercata a livello nazionale italiano, in un contesto che merita sicuramente una visita venerdì sera alla Villa Mainoni d'Intignano in via Castelnuovo ad Erba. Ecco, Maria Mainoni d'Intignano, vogliamo precisare questo discorso dell'apertura straordinaria? Sì, direi che infatti effettivamente il discorso era partito con Spirabiglia perché noi siamo andati ad ascoltarli, a me sono piaciuti moltissimo, poi loro sono venuti nella Villa e il posto è piaciuto ed è partito tutto dal concerto in Villa Mainoni d'Intignano. Dopodiché diciamo che va anche sottolineato il fatto che la cosa ha avuto un po' un'evoluzione, nel senso che poi prima del concerto ci sarà una degustazione di vini Mainoni guicciardini, cosa che è venuta poi dopo? E ancora prima ci sarà lo storico Giorgio Mauri che dirà due parole sulla storia della Villa in quanto la Villa ha una storia, ha una storia napoleonica, ha una lunghissima storia di secoli che adesso non sto qui a specificare, a raccontare tutto però solo entrando la senti, ecco va vista, va visitata e quindi la visita, la degustazione e poi la parte finale del concerto che dovrebbe proprio coronare tutta la serata. Ecco quindi grazie anche all'aiuto di Giorgio Mauri, la possibilità da parte degli erbesi e degli ascoltatori in generale di scoprire questo vero e proprio gioiello architettonico del nostro territorio. Io tornerei brevemente con Muscari, vogliamo dare ancora qualche dettaglio in più per quanto riguarda la serata che è ad ingresso a pagamento? Assolutamente sì, l'ingresso è 15 euro, le prevendite sono ancora aperte quindi 13 euro, è possibile prenotare quindi fino a venerdì a mezzogiorno. Abbiamo qualche indirizzo? Abbiamo un numero di telefono, un cellulare, 328-5421918 e poi è possibile prenotare anche tramite l'indirizzo internet spirabiliaquintet.chiocciolaiau.it E allora diamo ancora questo importante appuntamento, venerdì 3 luglio alle ore 21 in Villa Mainoni di Intignano, via Castelnuovo 1 d'Erba, in prossimità del Castello di Casiglio, per chi non è particolarmente ferrato sulla geografia locale, il concerto lirico in occasione di questa apertura straordinaria della Villa. Grazie e una buona serata, buon concerto a tutti. Grazie anche a voi.